E' sano E allora è quello padrino Ma lui è sfatto Ma lui è sfatto quando è messo bene C'è l'ostetica, signora, il suo figlio è sfatto Lei non ha sfatto in questi 9 mesi Non ha fumato, io non ho fumato Ma il suo figlio è messo già male Oh, 4 anni di GFM Ah, certo Ecco, mi sa che di qua E devi fare delle foto Cioè, mi sa che tu sei... non so chi di voi due è entrato prima Lui Lui E poi siamo 20 anni Mi sa che sì, adesso tenevo i più vecchi Io non ero l'ultimo Io mi sono iscritto sul forum Due mesi dopo che era nato il figlio Poi ho fatto il gesto al forum Non c'era neanche il forum quando sono entrato Ma non è che è dovuto fare il giusto C'era la Germana che tipo chiedeva Oh, ma vuoi entrare nel clan? Mettila a te E' così E' iniziato tutto il clan Cioè, non puoi fare il mesi per la Germana All'inizio In quanto era la parte? Due stronzi che hai messo in me Devo pure aspettare Perché è successo Perché quando sono entrato io eravamo una decina C'era Toplo, mi sa Se sono liberi Ma tu hai frequentizzato gli italiani? Io giocavo dei Gov Sì, ho già fatto Quando non c'era ancora la nostra serie E dopo c'era Perché sono diventato amico di Germana? Non se ne stavo chiedendo Non me lo ricordo Perché non conoscevo un cazzo di nessuno Non me lo fettevo un cazzo di nessuno Mi sa che hai mai visto prima una volta E tipo, questo lo aggiungiamo E poi una volta mi scrive Mi invitava a giocare di là E ho cominciato a giocare in Italia E dopo... Ma tu che giochi spesso da noi E ti sei fatto fregare Ho contato Il tipo a questo lo consumo Sì, sì, no Ma di no Ma non mi interessa Stare in un plano E infatti Se io già l'ho avuto sia a cazzo E fu quasi che Questa foto Questa foto Paga solo l'uomo Sì, esatto Questo non io credo E' proprio stato usato Il tipo l'estratto contro di noi Avrebbe oggi una Ferrari E invece... No, io ho iniziato a pagare da... A pagare a pagare Da quando lavoro, da settembre Se no, prima facevo donazioni Non ero altri due euro Non ero altri due euro O se lo fanno tutti? Eh, se lo tocco Donateli anche io Perché anche io Si paga il suo servere da solo, sempre Non so quale paypal devo pigiare Eh, si pensa Non so Ti pigi uno a casa E dono due euro Donati su tutti due allora E sono quattro euro E fai un euro Un euro più bello E' tipo si fredda Le spese Si Infatti Anziché comprare quattrocento Ambo il bundle Si ma li hai pagati quattro Si, un centesimo E' uno stronzo E' proprio una cosa Infatti poi gli regalavano il giro Poi gli preso il tuo codice Boh bella Oh ma poi c'è la gente che non si filo Ma che cazzo c'è? Secondo te io Vado a carare la gente Ma dai Ma hai detto che ti eri fatto fottere l'account? Si No Si Glorie a mio Glorie a mio Eccolo la storia Ma quando all'inizio tipo A metà No E' successo Allora all'inizio io non avevo niente di computer Invece oggi è un perno No Anzi proprio mastica No Il mio figlio mi regalo il computer Mi dà un account Steam Io Non sono praticamente niente Non ho visto counter strike e basta Ed era rubato perchè Poi si è tradizionato Adesso non più Poi ha scoperto il porno E invece una volta Ho trovato qualcuno Pigeo Pigeo E va E tipo Una cosa di 5 6 5 6 6 Pigeo E Piatra un account Fenomeno Eccolo quello nei film E' 5 6